Mister, dopo 5 vittorie consecutivi è arrivato questo pareggio qui ad Andria, come giudica la prestazione dei suoi? Abbiamo fatto una discreta gara, ne abbiamo fatte anche di meglio, però in campo ci vanno anche gli avversari. Secondo me l'Andria ha fatto una buona prestazione, noi non siamo partiti benissimo, abbiamo fatto meglio un po' nel secondo tempo, però va bene anche così. Quali sono gli aspetti negativi di questa gara e quelli positivi? Abbiamo sbagliato un sacco di passaggi, abbiamo sbagliato un sacco di situazioni che di solito non sbagliamo e dobbiamo essere contenti del punto preso, perché le partite in questa maniera qui puoi anche rischiare di perdere, come poi è successo alla fine. Il Cosenza ha dimostrato comunque di essere un'ottima squadra, dove pensa che può arrivare a fine campionata? Noi dobbiamo fare gara per gara, se erano ultimi quando sono arrivato io, penultimi quello che era, ci è voluto un po' di tempo per dargli un'idea di gioca, adesso ce l'hanno, si sta bene in campo, poi a volte si vince, a volte si perderanno, non è quello il problema. Il massimo che possiamo fare lo proviamo a fare. Grazie. Grazie. Grazie.